Un 56enne originario di Montecchio Emilia ma residente nel comune di Traversetolo è stato arrestato dai carabinieri per i reati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. L'uomo aveva adibito una parte della villetta di sua proprietà nella campagna traversetolese a casa di appuntamenti, a ricevere i clienti una donna romena di 40 anni domiciliata nella stessa abitazione. L'attività era promossa attraverso inserzioni su internet. I carabinieri della locale stazione con l'ausilio di quelli della compagnia di Parma sono entrati in azione sabato scorso attraverso un blitz nella casa. La villetta si trova in una zona molto isolata. Per arrivarvi i clienti dovevano fermare l'auto ad un centinaio di metri di distanza e da lì si mettevano in contatto con la prostituta. Attraverso un potente cannocchiale il 56enne verificava che il cliente non fosse una persona di sua conoscenza e in grado dunque di smascherarlo oppure una persona potenzialmente pericolosa. Poi dava l'ok alla donna per condurlo nell'abitazione e procedere dunque con il rapporto sessuale. L'indagine è nata dalle informazioni acquisite dalla stazione di traversetolo e dai posti di controllo effettuati nella zona dove poi abitava questo pregiudicato. I successivi sviluppi hanno consentito di riscontrare in flagranza di reato la stessa ipotesi investigativa e di trarre in arresto questo soggetto per i reati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Quando andava avanti questa attività? Velocemente da un mese, condotta da forse due donne, noi ne abbiamo trovata una, era abbastanza fiorente come attività in quanto sono stati rinvenuti 3.200 euro in contanti più una serie di passaggi bancari che poi approfondiremo in un secondo momento. Il 56enne disoccupato, precedenti penali per possesso abusivo di armi e per minacce, separato, si trova ora ai domiciliari. I militari sono riusciti a risalire alla casa di appuntamenti attraverso normali controlli stradali nella zona. Venivano infatti spesso fermate auto provenienti da svariate località e i cui automobilisti fornivano strane spiegazioni sulla loro presenza in quel posto. I clienti provenivano generalmente dalle province di Parma, Reggio e Modena.